Musica 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 Tranquilla Oh 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 louder Lo so, vabbè. Il pallone lì io passai da solo e non è stato toccato a piedi, io fa e rimbalzo. Si gioca bene, non c'è una buca niente, non c'è un cazzo. Io fa, triste. E rimbalzo. Sei troppo, sei solo lì tranquillo, nessuno che disturba. Io fa. Vero io. Abbiamo regalato lì una punizione che potremmo fare nell'anello. Ecco, non c'è una punta. Non c'è una punta. Il punto è più di due, quella grande è sottero, sì, quella pericolosa. Sti ple di io passi, è in testa. E lì si aspetta. Guarda che è nostra lì, più ma sbalò. Non voglio giocare così. Ed ecco qua. Occhio, occhio! Bravo! Bravo! Non mollare, non mollare! Chiudi, chiudi, chiudi! La doppia, la doppia! Bravo! Bravo! Prodico! Bravo! La scelta del lontano, anche se con la squadra che sta pronti, il Morro comunque, su certi aspetti, con la squadra che ha giù, più tecnici, più tecnici, più tecnici, più colpevole. Un altro è un po' più. No, ma occhio, è però lì, Dio fa per ieri, se ti sorprendi, Dio fa, cioè, prende via non parai, allora già. Ma se tu becchi manca curi, cioè, vent'è un becchi, vent'è scuri, vent'è curi, vent'è curi. Vieni, vieni, vieni. Grazie a tutti. 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 Secondo me è la migliore squadra sul piano del gioco. Sul piano del gioco è la squadra che gioca di più a pallone, di tutto il girone. Grazie a tutti. 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 di questo qui sottero qui, è di quelli furbi, non è di quelli proprio, di malizia ne ha da vendere da vendere, non è che sia uno furbi, di malizia ne ha qui fino a da vendere da vendere, purtroppo è verga non è il senso, non è il senso, da parte della famiglia di tirare un figlio, non è il senso ma vai, è pure Matteo, Dio fa timi no, timi no ma no, ma che ha vai Dani vai Dani c'è il grande gol Dio fa campo fuori campo fuori si però Dio fa però fa nè farei si fa ogni tanto ma sono entrati di due, ho fatto un cazzo di due, adesso voglio fare scena l'altro ah ma io c'è il grande gol, ho fatto 90 kg, Dio fa io non ho �ā adoro Dome 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 Allora coworking io posso rhum .. ύ fossimo my non è che tu Romeo tra cesi cente comprenola mentation eh ma il problema non ci ho bisogna di acquistare bronvio qua buon avuto per recuperare l'inno è per due oltre 1 a due, ogni partito fa una cosa incredibile, non ho ancora 5 o 6 anni a fortuna, 5 o 6 anni a fortuna, ma la pendina non è proprio, non ha niente particolare, adesso ha già le nasi doppia, la pendina è la prossima sbagola, ma la pendina è la prossima sbagola, ma la pendina è la prossima sbagola, ma la sbagliata, non si è inizio di quello di inizio, ma la pendina è la prossima sbagliata, chi ti ti dico cosa veniva venire fuori? No, 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 vai, no, 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 ora scambia l'arbitro ora scambia l'arbitro è no, va scambia l'arbitro di là, di là vai di là braia, braia, braia braia, braia, braia Braia! Tutto qua. No! E guarda che qui... Guarda che qui è un rimpallo a favore! Guarda che qui... Però dalla dalla... Invece della da la... Dalla da la... Dalla di là... Dalla nenta se chi è subito più... Dalla da la... Dalla da la... va a fare che la mi finta il rimpallo pazzesco, che chi che l'aveva la vai qui in cima no, non tira nel ballon ti fai fai leggere ma che fallo è quello, ma che fallo è ma che fallo è quello non ne spiega ma lui è che fallo è quello non ne lo spiega non che fallo non cià ha costato di fai 다�birichitile non ci assun certifica quando gira a media fa 2.000 e scaccate qui sempre 0-0 ma dai tempo ma no, ma se tu stai secondi le caramaglie bravo Luca bravo niente la parava con il ma no, si ma se vai col te ma dai col te ma non si fa una bella parada ma non vedi cosa se le scoppi vengono da dentro tu la tirai in... eh! no, era ora no, non era fuori gioco, ha fatto pallo poi ma no, per pallo, per pallo ma no, per pallo, per pallo l'ha spinto, l'ha spinto guarda, guarda, si, guarda, si guarda pulissimo esatto noi qui che loro la perde mese due le r Ό un'altra grega mesza 2 che basta occhio vai dentro 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 vai dai così no no sei sopa no ma larga sopra toglia toglia no no va bene ok ok no 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 fuori 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 non cita la cita la legge Grazie a tutti. 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 a tutti.